La tutela del nostro pianeta parte soprattutto dall'educazione ambientale che il cittadino ha verso il proprio territorio, l'educazione, la cultura verso l'ambiente, il territorio e la città dove viviamo indica il nostro livello di civiltà. Con questo spirito lo spettacolo bianco, giallo, verde e blu, prenditi cura del mondo anche tu, dopo essere stato portato nelle scuole aquilane è approdato anche nei venerdì in centro per le famiglie, nello splendido scenario della piazzetta di San Bernardino. Rappresentazione questa realizzata e messa a scena dal Teatro del 99 dell'Aquila, cofinanziato da SMSPA, attraverso un progetto nazionale di comunicazione locale del Lancia e del Conai. Uno spettacolo per sensibilizzare sul problema dei rifiuti e della differenziata. Lo spettacolo rappresenta un evento che suscita curiosità e interesse, per i bambini è un evento eccezionale che li aiuterà comunque a diventare consapevoli che l'ambiente che li circonda è un bene prezioso, per la cui conservazione e la loro collaborazione è importantissima. Lo spettacolo infatti a San Bernardino ha suscitato interesse e presenze.